Oddio, oddio, ciao a tutti ragazzi qui Darkness e finalmente siamo arrivati a mille iscritti. Voglio iniziare questo video ringraziandovi di cuore per il supporto che mi state dando. Però è da un bel po' che non vi parlo più e ho deciso che sarebbe stata l'ora di farvi sentire la mia voce, dato che sicuramente vi manca un sacco. Come i più perspicaci si saranno accorti, ormai sono passato a fare montage invece che commentare. Ma non temete, in alcune occasioni sarò ancora qui a parlare con voi del più e del meno del mondo videoludico. Esatto, ho detto videoludico e non Battlefield. Uno dei motivi principali per i quali non facevo commentare da un po' è che ho completamente smesso di giocare a Battlefield e alla Play 4 in generale. I miei iscritti più datati sapranno sicuramente che sebbene io mi tenga sempre informato sulle novità dei giochi che mi interessano, resto comunque un giocatore abbastanza nostalgico. Ho infatti pubblicato diversi video in passato allo scopo di criticare alcuni giochi sotto vari punti di vista. Per questo motivo vi vorrei annunciare una nuova serie che vorrei iniziare al più presto. Si tratta di una serie riguardante giochi un po' più vecchiotti, che non vengono più considerati di questi tempi. Preparerò questi video allo scopo di consigliarvi questi giochi e per spiegarvi cosa li rende così speciali per me. Insomma vi dirò perché nel 99% dei casi preferisco i giochi degli anni 90 a quelli odierno. Penso che criticando un po' le nuove generazioni videoludiche io possa far capire al mio pubblico che qualcosa sta man mano cambiando nel mondo dei videogiochi e che forse non tende al miglioramento, ma magari persino al peggioramento. Per ora vi lascio solo con questa breve anticipazione, ma spero di poter iniziare subito questa nuova serie e di avervi incuriosito un po'. A proposito, non so come chiamarla, lasciatemi nei commenti qualche nome carino per questi video e sceglierò quello che preferisco. Mi raccomando mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti i mille miei iscritti. Bella ragazzi, ciao!